A Rassegna Stampa di Molise TV, giovedì 6 febbraio, andiamo a vedere insieme come titolano le principali pagine locali, iniziamo dal quotidiano del Molise. A Pertura dedicata alla cronaca, rapinatore fugge col malloppo sbagliato, la vittima è riuscita a rifilargli una borsa ma dentro non c'erano i soldi dell'incasso giornaliero. Accade a Termoli, caccia al bandito sprovveduto che aveva preso di mira la titolare di un distributore di carburanti. E poi la politica da Campobasso, il centro-destra medita primarie oppure candidato unico per le prossime amministrative. Ancora da Campobasso, l'ottizzazione Parco dei Pini, bocceremo il commissario. In taglio alto ancora la cronaca, ingorgo al pronto soccorso di Campobasso e ora di correre ai ripari le prime reazioni dopo il caos di martedì scorso. Due anni e quattro mesi al piromane catturato grazie alle telecamere da Pozzilli, tradito dall'occhio indiscreto della forestale. E ancora la cronaca, padre e figli arrestati per spaccio di eroina da Termoli, lei è minorenne, lui ha 52 anni. Da Isernia l'odissea di un disabile, invalidità, finalmente la pensione. Le notizie di Sport Serie D, l'Isernia si allena in vista del match col Celano, lo stadio. Ieri il sopralluogo della commissione, Lupi, Monti e Guglielmi sono out. Andiamo ora a vedere le prime pagine interne del quotidiano dedicate alla politica e all'attualità. PSR facciò la 210 milioni di incentivi. L'assessore, il nuovo piano di sviluppo rurale, punterà su biodiversità e cooperazione. La bozza ieri è arrivata in seconda commissione e dal 17 febbraio sarà presentata a Bruxelles. Ancora agricoltura, reddito e nutrizione, stamattina il convegno della CIA. Disagi sulle ferrovie, l'opposizione insiste a rivedere l'intesa con Trenitalia presentata a una mozione in consiglio a tutelare i diritti dei viaggiatori. E poi serviranno invece per l'annualità 2013, gli ammortizzatori in deroga, Petraroia, agli oltre 2 milioni sono disponibili ed erogabili. L'auspicio dell'avvocato Franco Mancini, il contributo, l'esodo dei nonni. Ancora la politica, Partito Democratico, oggi la direzione nazionale sulle riforme istituzionali. Pietro Maio in calza sugli stipendi della politica non si può tentennare. Riduzione delle indennità agli indignati a Palazzo Mofa, ieri mattina a faccia a faccia, in prima commissione sulla proposta di legge che taglia i costi. Gigino D'Angelo, c'è bisogno di coraggio e di dare un segnale forte ai cittadini, dice. Ancora i precari dell'Agenzia regionale di protezione civile slitta il tavolo. Il comitato Tempistica Sospetta si teme che l'Agenzia voglia rinnovare solo 60 contratti. Poi la conferenza dei capigruppo consiglio in riunione martedì prossimo. Prevenire il dissesto con la Polizia Rurale proposta di legge dell'Italia dei Valori. Horizon 2020 illustrato all'unimo il programma per la ricerca e l'innovazione. Infine Arsia ha nominato il collegio dei revisori. Bene, dal quotidiano del Molise ci spostiamo ora a vedere la pagina online di Informa Molise, del settimanale del Molise, per vedere le notizie in primo piano. La tratta Roma-Campobasso titola Informa Molise tra le peggiori d'Italia, la minoranza presenta una mozione a frattura. E poi ancora a cozzolino del PD stop a importazioni da paesi che sfruttano il lavoro e l'ambiente. E poi ancora eolico selvaggio chiediamo alla Corte europea l'abrogazione della legge Berardo, appunto l'appello che viene dalla Commissione regionale della Corea. Poi ancora di fida della minoranza al comune di Termoli, la Corte dei Conti archivia il caso. E infine la cronaca, lo spaccio di droga, arrestata Giovane Puscher. Bene, da Informa Molise ci spostiamo ora a vedere la prima pagina di primo piano Molise. Pensioni d'oro ci costano 360 mila euro al mese. Attanto ammonta l'assegno staccato dalla regione a gennaio per pagare vitalizi agli ex, intanto gli indignati. Sono saliti a Palazzo Moffa la proposta, taglie in denità, sospese in attesa del DDL di Renzi. E poi ancora la sanità nel caos, pronto soccorso al collasso. A Isernia la rivolta è dietro l'angolo a Campobasso, invece rientra l'emergenza, ma il dirigente avverte la politica, ascolti chi sta in trincea. La politica amministrativa e l'Udeur va nel centro-destra. Guerra fredda tra Mastello e Niro. Il leader conferma la linea del campanile. Da Campobasso ancora la cronaca, muore a 10 anni per una diagnosi sbagliata. Dottoressa condannata, i fatti risalgono al scorso 2008. Ieri la sentenza, nove mesi, a un medico della pediatria. Petacciato padre e figlia minorenne arrestati, la ragazza ha beccato a spacciare una dose di eroina. Da Sepino scambi carabinieri per malviventi e spara in aria. Da Venafro, il piromane dello Stingone, patteggia sconterà la pena ai domiciliari. Poi i fondi dell'Unione Europea 2014-2020, rascio finale per il PSR. I 210 milioni saranno investiti per le esigenze della nostra agricoltura, dice appunto l'assessore Facciolla in commissione. Le notizie di sport, serie D, Olimpiagnone, cammino dei play-off per la salvezza, Coppa di eccellenza, Campobasso in giornata c'è il sorteggio. Andiamo a vedere anche qui le prime pagine interne di primo piano Molise, costi della politica, gli indignati e spugnano il palazzo. Primo confronto in commissione sulla proposta che dimezza le indennità. Totaro, il testo va nella giusta direzione, ma l'iterra è sospeso in attesa del DDL Renzi. Un mese di vitalizi, 360 mila euro. La pensione d'oro torna a far discutere. La Regione ha impegnato la cifra per gli assegni degli ex relativi a gennaio. Poi l'iniziativa di Pietro e Parpiglia, il discesso idrogeologico, cioè il disegno di legge, focus sulla prevenzione. Norme sull'eolico Corea si rivolge a Bruxelles lunedì, un incontro organizzato dall'Associazione insieme all'Osservatorio Molisano sulla legalità. Udeur a destra, Mastella conferma, primavera infuocata sotto il campanile, dal PD maio rafforza il no al quinto assessore, linea Renzi esecutiva a tutti i livelli. Il PSR è in astri di partenza, facciolla, 210 milioni per le esigenze del territorio. Informativa in seconda commissione dal 17 al 19 febbraio. La presentazione a Bruxelles, poi GAM, sindacati critici sul piano, si lavora al tavolo con Conf Cooperativa, intanto slitta domani la riunione sui precari del sisma, comitato in allarme. Cassa, integrazione, mobilità inderoga, IMS allertata, fondi in arrivo. Ancora l'appello di Patricello da Strasburgo per il rientro dei due Marò e poi infine Campobasso-Roma in treno di Sea Quotidiana. Il centro-destra a Frattura rivede il rapporto con Trenitalia. Bene, da primo piano Molise ci spostiamo ora a vedere la prima pagina della Gazzetta del Molise. In apertura il banchiere di Dio, titolo alla Gazzetta, il presidente del Consiglio Niro pronto ad aprire un istituto di credito in Molise con 10 milioni di euro. Ancora le notizie. Regione Cotugno incompatibile per colpa del Neuromed. La questione della sanità, Venitelli e il PD lanciano l'allarme. Frattura va fermato Campobasso. La politica a bagarre nell'Udc in vista delle comunali. Pilone lascia il partito. L'Oscar del giorno poi va al pronto soccorso per come ha fronteggiato l'emergenza. Il tapiro del giorno invece va all'eurodeputato Aldo Patriciello. Andiamo a vedere anche qui le prime pagine interne della Gazzetta. Vincenzo Niro, il nuovo banchiere molisano. Secondo i ben informati, il presidente del Consiglio regionale pronto ad aprire la Banca Etica Cattolica Internazionale. Ancora ecco come l'ufficio di presidenza, spende i soldi dei molisani, tazze, giacche, libri, feste e corse di cavalli, missione in Francia e Belgio. E io pago. Titola ancora la Gazzetta. Attenzione, Cotugno è incompatibile. La moglie del probabile assessore ha una quota rilevante nel Neuromed pagata dalla regione. Ancora ciocca il flaggello del Molise. Insegniamo agli eletti che prendono 11 mila euro al mese a governare. E poi ancora sulla ricostruzione post-sisma hanno perso un anno, dice l'ex governatore Michele Iorio. Bene, dalla Gazzetta andiamo ora a vedere la pagina che il tempo dedica al Molise. Campobasso se sali su un treno, sei quando parti ma non quando arrivi, il minuetto diretto verso la capitale fermo 4 ore alla stazione di Ceprano, problemi sulla linea del Molise verso Roma. E poi l'ex ausiliario dei vigili del fuoco condannato a due anni e quattro mesi appunto per aver appiccato un incendio nella provincia Pentra. Tribunale di Campobasso, parto gemellare prematuro senza visita ostetrica, l'Asrem condannata per la morte del piccolo. Ancora da Iserne, i nostri figli in una scuola pericolosa dovete portarli via. Le famiglie di 100 bambini ospitati nella struttura di via 24 maggio chiedono al sindaco Brasiello una sistemazione adeguata. Bene, con il tempo Molise chiudiamo la sezione dedicata alle pagine locali. ci spostiamo ora a quelle nazionali. Andiamo a vedere la prima della stampa di Torino. Napolitano Blindaletta, Senato parte civile contro Berlusconi decide Grasso, un dovere morale. La maggioranza chiede una verifica, cresce il fronte che vuole Renzi al vertice dell'esecutivo. Il Colle frena bene la continuità. E poi in taglio alto pedofilia l'ONU accusa. La chiesa ha permesso gli abusi sui minori, cambiate su omosessuali e aborto. La replica è un'ingerenza. Ancora la fotonotizia sciopera la metro, la coda più lunga di Londra. Un taglio di 900 addetti. Ieri e oggi ferma la tube che ogni giorno trasporta 3 milioni di persone. Dalla stampa alla prima della Repubblica, ancora Berlusconi, il Senato parte civile decide Grasso. Dovere morale da Napolitano stop a un governo Renzi. Palazzo Madama si costituisce contro il Cavaliere nel processo per la compravendita dei parlamentari. L'Ira di Forza Italia. Anche qui la stessa notizia che abbiamo già trovato. Pedofilia dall'ONU dura accusa. Al Vaticano permessi migliaia di abusi. La replica no alle interferenze. Dalla Repubblica andiamo alla prima del tempo di Roma. Con il tempo per Imaro, lettera del Premier, letta al fianco del nostro giornale. Per riportare a casa i fucilieri, il paese deve essere unito. Ora ci aspettiamo segnali concreti e coerenti dall'India. E poi Gervinio che esalta il Roma, Coppa Italia all'Olimpico, sconfitto il Napoli 3 a 2. Dal tempo alla prima del messaggero. La politica. Senato contro Berlusconi. E l'Ite, la scelta di Grasso, Palazzo Madama sarà parte civile nel processo sulla compravendita a governo. La maggioranza chiede la verifica. Renzi valuta la possibile staffetta con Letta. Ancora domini web. La grande vendita. E Roma dovrà correre all'assa. L'indirizzo della capitale rischia di andare a una società estera. Dalla prima del messaggero. Ci spostiamo a quella del sole. 24 ore. Stop alle cartelle del fisco. Titola il sole. Perché accrediti con la pubblica amministrazione. Il debito deve essere inferiore al pagamento non ricevuto. Passa all'emendamento al decreto destinazione Italia. L'opportunità però sarà limitata fino al 2014. E poi squinzi a Letta. Bisogna agire sull'economia in tempi rapidi. Incontro a Palazzo Chigi il 19 febbraio. Il premier in Confindustria. Dal sole 24 ore alle notizie di sport con la Gazzetta. Milano sulla testa. Murigno allo scoperto. Scuote l'Inter e il Milan. Mazzari e Sidorf serve fiducia. Non ci sono tanti giocatori. Top nelle loro rose. Noi interisti siamo in buone mani. In taglio alto Gervinio che la lancia alla Roma. Ma questo Napoli è vivo. Livoriano segna una doppietta. Ingolla anche Strootman. Benitez. Reazione importante. Cori anti-napoletane. All'Olimpico spettacolare. Semifinale d'andata che finisce 3 a 2. Poi lieto fine. Balotelli che riconosce la figlia Pia con un tweet. Dalla Gazzetta dello Sport. Andiamo a vedere la prima del Corriere. Gervinio Sciocco. Coppa Italia. Spettacolo all'Olimpico. Il Napoli rimonta. Due gol alla Roma. Ma all'ottantesimo Livoriano. Doppietta. Piega gli azzurri. 3 a 2. Mercoledì il ritorno. Ancora Balotelli. È vero. Sono papà. E riconosce la piccola Pia. Colpo Inter. C'è l'accordo con Vidic. Lascia lo United a giugno. Bene, con le notizie di sport, la nostra rassegna stampa termina qui. Io vi lascio alle previsioni meteo. Vi ricordo l'appuntamento con l'informazione di Molise TV alle 13.50. e vi auguro una buona giornata. Il meteo è offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Previsioni del tempo per giovedì 6 febbraio. Sul Molise permane un flusso di correnti occidentali che mantiene in vita una moderata variabilità senza escludere precipitazione al mattino. Ventilazione moderata con mare mosso. Temperature e rialzo sia nei valori minimi che nei massimi. Andiamole a vedere nel dettaglio. Campo basso minima 5, massima 11 gradi. Isernia minima 3, massima 12 gradi. Termoli minima 9, massima 14 gradi. Il meteo è stato offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. intenzial Preto Breto Preto 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 Grazie a tutti.